Il Presidente del Consiglio non si perde una puntata di Anno Zero e ogni volta che guarda Anno Zero si arrabbia, guarda Allora partiamo dalla puntata del 12 novembre del 2009 quella sulla richiesta di arresto del sottosegretario Nicola Cosentino per i suoi rapporti con la Camorra Al telefono c'è il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che chiama il commissario dell'Agicom, cioè dell'Autorità delle Comunicazioni Gian Carlo Innocenzi Sentiamo Ciao, ti volevo avvisare che ho fatto l'altra sera nel corso della trasmissione di Anno Zero una telefonata indignata al Presidente della Commissione dell'Autorità A Calabro, non mi ha detto niente Ma, dico, sta guardando lei la trasmissione? È una cosa oscena quello che succede No, ma lunedì apriamo l'istruttoria Comunque anche per il passato Hanno fatto praticamente un processo a Cosentino utilizzando degli attori Qui è la cosa grave È gravissimo che non ci sia nessuno che lo difenda che quindi non ci possa essere nessuno in contraddittorio È grave che facciano interpretare da degli attori delle cose che risalivano tra l'altro di dieci anni Allora, certo, voglio dire, non è bello che il Presidente del Consiglio, che è un po' il giocatore il capitano della squadra più forte Chiami l'arbitro direttamente per fargli fischiare Ma è talmente arrabbiato Nessuna televisione europea in cui ci sono questi pollai E allora perché noi dobbiamo avere queste fabbriche di fango e di odio? Io sono dovuto stare un giorno chiuso a Palazzo Chigi Dormirci la sera prima e la sera dopo Ho letto sui giornali Perché è venuto fuori che volevano farmi un attentato accostando una macchina alla mia nel percorso da casa mia a Palazzo Chigi Ghedini ha ricevuto una cosa con cinque pallottole in cui gli dicono che lo aspetta un caricatore intero che sarà per lui, per sua moglie, per sua sorella, per suo figlio che sanno dove va a scuola suo figlio che sanno dove va a giocare suo figlio e gli hanno praticamente rovinato la vita E allora non si può più vedere i di Pietro che fanno quella faccia in televisione La RAI con queste trasmissioni fa sì che la gente dica io non pago più il canone perché non voglio che i miei soldi siano andati a Santoro o a Floris No, ma guarda Fammi finire Quello che adesso bisogna concertare è che l'azione vostra sia un'azione che consenta che sia da stimolo alla RAI per dire chiudiamo tutto Cosimo ha messo in piedi questo gruppo di giuristi Ho già detto al segretario generale a Calabro che i quattro nostri fanno subito una denuncia all'autorità Noi chiediamo l'apertura dell'istruttoria non solo per l'aspetto specifico di Cosentino ma per tutto il seguito delle trasmissioni le abbiamo analizzate tutte In più c'è un codice che abbiamo varato noi che impedisce la rappresentazione di processi in televisione peraltro avvallato dal CSM e anche da Napolitano con il plauso di Napolitano oltre che del Consiglio Superiore della Magistratura Lui in spregio totale continua a sbatterse nei coglioni Allora l'idea nostra è che con martedì noi cominciamo ad aprire il fuoco a tutto spiano Ma non solo su Santoro apritelo su tutte le trasmissioni di questo tipo Io ti avevo cercato anche per dirti non farlo tu basta che mi metti in contatto con i carabinieri perché mi è utile anche un esposto da parte dell'arma Certamente! Gallitelli! Grazie mille! Allora chiama Gallitelli io ti confermerò di avergli parlato Ecco, grazie Ciao! Ciao! A tiny bitants